E benvenuti in questa seconda parte del decimo livello di Tomb Raider Anniversary. La postazione è diversa perché ora vi mostro, come vi avevo già detto nell'episodio precedente, che cosa abbiamo preso all'Xmas Comics, ovvero al Torino Comics, che l'hanno fatto qua a Torino, precisamente a Lingotto. Quindi vi mostro quello che abbiamo preso e ora che abbiamo inizio la presentazione delle cosine comprate. Partiamo da due cose molto carine che io per l'avviso ho detto non le posso non prendere. E sono questi due poster, uno è Zenitsu di The Monslayer, l'altro invece è Axel della Raymond di Nazuma Eleven, che è l'attaccante della squadra di calcio. Poi questo qua, che è un libro, ma dai, di Tomb Raider che avevo già visto su Amazon, però il mio ragazzo, per caso, ovvero Fede, per caso ha trovato questo libro in mezzo a tanti altri libri. Fa, amo amo, vieni, vieni. E dimmi, amore, guarda qua. E ho detto no, subitissimo. Infatti questo è il primissimo acquisto. Poi passiamo a queste due cosette molto belle di Dragon Ball. Che praticamente non abbiamo ancora capito che cosa sono. Comunque, sono di Dragon Ball. Non si capisce che mi piace Dragon Ball, ma vabbè, mi sono fatto un po' di tatuaggio. Ma se ce la faccio con questa felpa qua ve lo faccio vedere. Goku. Piccolo Goku. Questo qua è stato un altro degli acquisti, però volevo farlo vedere alla fine, ma vabbè. Per me ne vinte ma Goku, ho fatto che farvelo vedere. Questi due cosini di Dragon Ball, li chiamo così perché non so che cosa sono. Praticamente li abbiamo vinti a Lichiband di Dragon Ball. Per chi non lo sapesse, è una roba fatta a premi. Ti pescono dei bigliettini con delle lettere. Queste lettere hanno dei premi in particolare. Ti permette di vincere action figure, tanti gadget dell'anime in questione. Poi, questi due cappellini, uno di Gengar e l'altro di Snorlax. Noi a casa abbiamo sia Pikachu che Gengar, che vabbè, in realtà sono di fete, ma adesso che sono con lui, sono anche miei. Eh, Snorlaxino. Questi qua invece li abbiamo vinti l'ultima giornata del comics. Questo qua è Pokémon, sì Pokémon. E Pikachu versione Vaporeon. Invece questi qua sono dei Bubble Tea, che sono carinissimi. E questo si chiama Bubble e questo Tea. Lo so, non far ridere. Comunque, questi qua invece li abbiamo vinti facendo un altro giochino. Sono casi carucci. Cioè, che inizialmente questi qua non avevo capito fossero dei Bubble Tea. Sono super morbidosi, super... Chiuttosi. C'era lo stand di My Secret Case. E con questo ho detto tutto. Cioè, perché per chi non conoscesse My Secret Case, io vi consiglio di andarla a seguire. In quanto il sesso non è un tabù, anzi è una cosa che secondo me va detta. Fate tutti i sesso. E con questo ho chiuso. Comunque sono dei sex toys. Si possono chiamare così? Si, si. Questo qua è un ovetto. E praticamente, questo affalino qua, lo spacchetto con voi. Bene. Questo robino qua l'ho messo nei lavaggi. E questo è il telecomando che il vostro partner, in questo caso il mio partner, lo userà con tanto piacere. Si mi diverterà tantissimo, già lo so. Questo qua è un altro... Eh, che palle. Vibratore, ma c'è tipo una sorta di lingua. Praticamente questo qua va a simulare il clito. Io direi di fine qua e vi lascio al game. Ci vediamo alla fine del video. Ah no, andiamo per ordine. Ci voglio capire che dobbiamo fare. Da sopra? C'è un tempo di provare, però secondo me quello dopo. Vediamo. Sotto? Dai, proviamo sotto. Andiamo verso la morte, certa. Verso le nostre amiche mummie. Facciamo le cose con calma. Ok, più si va con calma e neve. Andiamo qua. Se faccio così. Uh, mi sa che io le posso fottere. Aspettate. No! Ah, 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 ah! Sanno loro che fottono me. Ma come mi stanno fottendo. Ma guardatele come mi fottono. Si fa. E no, tanto io non riesco a farla, sta merda di te. Porca di quella pucciola. Come mi stanno fottendo. Potentemente. Aiuto. Cambia l'arma. Non ti cuore. Ma prendi il pompa e pompali tutti. Ti prego, Lara. Io erano qua a muoio. Ma che con una pompata non muoiono? Porca di... Ci deve essere un modo. Si fa. Ma prendilo. Ok, questo qua è il modo per ammazzarli, sicuramente. Dove sono? Cioè, raga, ma poi... Tutte tre qua. Ma vi ficcate qualcosa nel... Non dico dove. Poi meno. Così le possiamo ammazzare. No, perché finisce male. Ah, che goduria. Cioè, che crepate così mi fate un gran... Eh, ma questo non me la piglio, invece. Dove sei? Bruttona di merda. Vieni qua. Devo affrontarla, sta brutta di... Dai! Levate tu le bruni! Basta! Io non le sopporto, sti mommi. Vediamo, non mi lasciano in pace. Poi, fra... Che orecchie lunghe. Eh, e dritte. Cioè, non le sopporto. Io, per me, sono inutili, sti mommi. Sono inutili. Questi esemplari di mommie stupide. Eh, ci siamo? Ci siamo? Fa voi, eh? Ci siamo? Eh. Qua che ci sta? Eh. Cos'è qua? No, ti ho sbagliato. Dai! Ma cosa... Ma... No, io non lo so che devo fare. Io non lo so. Cioè, ma esci da sto corpo. Cioè, fa le acrovozze in aria, questa. Giusto, così? Giusto? Ah! Mi piaci. Mi piaci. Mi piaci. E piglielo. Non lo pigli. Scusami, Lara, eh. Ma non ha fatto rumore, però. E siamo a due. Ne mancano altri due. Raga, non ha fatto rumore. Questa cosa non mi piace. Ok. Poi... Voglio, voglio, voglio un'altra Lara. Questa è pacca. Questa non è la vera... Non è la vera Lara. Cioè, sbaglia, scivola, fa quello che vuole lei. Ma sono io che ti comando, fra. Non ho capito niente. Non ho capito niente. Momento. 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 Qua, dov'è? E' giusto questo? E' giusto? Questo pezzo? Ma lì come ci vado? Ah, devo ritornare là. Ascettate. Ma lì c'è la scorciatoia? Ah, scorciatoia. Cioè, beccate que... No, mi sa che sto andando da un'altra parte. Scusate. Ah, non è giusto. Abbiamo la scorciatoia. No. Questo buco? Aspettate, qua c'è una cosa che mi arrampico. Che brutta, eh. Qua cosa c'è? Niente. Munizioni per il... Ma io mi sono curata. Quella poletta. Per non dire. Come lo carichi? Carica, per favore. Non la carica. Aspettate, prima che faccio danno. Ok. Così prendono munizioni. Sì, che servono? Ma io non so come finisce qua. Diventa una polpetta, altro che... Ma la sopra ci posso andare, scusate. Ma la polizia si fa. C'è qualcosa? Beh, grazie Lara. Stai agli aiuto. No. Scendi. Questa è rischiosa. Appunto, lo sapevo io. Panico momentanei. Sono tornata indietro per niente. Dovevo semplicemente... Fare tutto il suo tragitto. Aggrapparmi lì e arrivare qua. Non so perché sono finita lassù. Ma vabbè. Affrontiamo le nostre amiche trappole. Deve essere una cosa veloce. Ah! Ah! Addio! Addio, Lara! Poi? Io piango. Io piango. Ma voglio piangere. Ma si può essere così lente, porca. Via. L'ho schiacciato. L'ho schiacciato il triangolo. L'ho schiac... Voglio piangere. Devo fare ancora la autrice. Devo ancora registrare il gioco di... L'episodio di Assassin's Creed. Devo ancora editare il vlog. Basta! Muoviti! Allora. Concentrazione. Azione! Porca di quella paletta. Ma va! Io me ne vado. Ma grappati! Oh! Ce l'hai fatta, zio fa! Questa cosa come funziona? Ma tanto mi prende. Appunto, appunto. Tanto cadeva. Come funziona? Basta. E qua dove siamo? Basta. Ma non voglio andare. Non voglio andare. Basta. Mi fumo del tatuaggio. Mi torno da casa. Mi finisco il suo livello. Basta. Abbiamo preso tutto. Ce l'ho fatta. Te! Ne va. No! Dobbiamo fare il ritorno. Non vale. Non voglio andare via. Basta. Non potevano mettere un passaggio segreto. No, cavolo. È andata il ritorno. È andata della speranza e il ritorno della morte. Il ritorno della morte. Guarda che mi prende. Guarda che non so bene. Non so bene. Non so bene. Non so bene. E vai! Ce la fai, Lara? Ce la fai, porca di quella paletta? Oh, ci sono altre mummie qua, eh? Perché no, eh? No, eh, io me ne voglio andare a casa. Me ne voglio andare a casa. Ce sono già a casa, però... Nel senso. Avete capito. Devo tornare su. Torniamo su. Si torna di qua. Aspettate, scusate. Dai! Immancabile! Colpo di scena. Colpo di gamba per terra. Spaccata in due. E andiamo. E aggrappiamoci e vai a quel paese. E vai! Ok. Possiamo tornare a casa? Finito? No! Ci siamo? Siamo pronti a morire? Con tanta felicità e tanto amore? Pronti, Lara, a morire? Eh? Io no. Tu? Pronti? Ma mamma, quello? Ah! Buon cacchio. Ah no, poi posso che... Ah! Aiuto! Allora, aspettate. Uh! Sto morendo! No! Allora, dobbiamo prendere le altre cose, ragazzi. Dov'è? Oh! Oh, grazie. Ma una cosa, scusate però, eh. Io non ho preso i due monofatti. Ma dove sono? Me li sono brasati. Come sempre ormai. Guardate. Appunto, che stanno? Dov'è? Allora. Facciamo l'ultimo controllino. Giusto per... Ah, qui è dove siamo arrivati. Poi, appunto. Niente. Niente, questo gioco non lo platinerò mai. Vabbè, tanto dobbiamo scendere. E niente, ragazzi. Ancora manca qualche secondino prima di finire il livello, ma... Niente. Mi sono brasata due monofatti. E andiamo! Che bello! Che bello. Non c'è niente. Uh, pesciolino! Vieni qua! Zitta, nuota, 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 zitta, nuota. No, che facciamo? Nuotiamo, nuotiamo. No, mi sa che moriamo. Lara! Dai! Muoviti! Ma appunto! Ma che fai, imbecilio? Saper crepare. Vabbè. Concludiamo questo livello in bellezza. Così. Et voilà. Eccoci qua. Nel livello precedente. Dove anche lì abbiamo dimenticato un manufatto. Uno. Qua due, ma vabbè. Eh vabbè ragazzi, non andare così. Facciamocela ragione, facciamocela andare bene. Eh via. Dove devo andare? Vabbè, qua. Madonna, ma perché mi son curata? Che... Mamma mia. Io non lo so, ora. Che devo fare qua? Metto l'ansia. Ti rumori, ste vocine. Pompa, pompino. Vieni a me, vieni qua. Veniamoci. Stretto questa pompa che non si sa mai. Allora. Ah, dobbiamo inserci qua. Eccolo! Ma io non lo so fare! Non lo so fare! Ma levati, ma muori! Come l'ho... Come l'ho combatto sto... Fra... Perché? Lo spieghi perché? Cioè, alla fine... Mi devono far dannare così, sti imbecilli? Che ci doveva infilare? Non l'ho preso? Ok. Minchia ragazzi, avevo dimenticato l'ultimo... Beh, madonna. Qua ci vuole l'occhio. Ma come no? È rimasto bagato... Raga, oggi ha bagato un po' il gioco, eh? Parecchio. Questo. Vabbè, non potremmo metterli lei in automatico, no? Dobbiamo metterli noi. Aperte le porte! Per la prossima sofferenza, sì! Allora. Ovviamente i due monofatti, lasciamo di stare dove sono. Vabbè, ormai è andata. Finito. Ho finito. Ho finito di dannare. E andiamo. Sette decisioni. Diciotto provviste. Due monofatti. Il posto di quattro. Zero reliqui. Questo vi da tempo completato, no. Io con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo. Che play! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Grazie a tutti.